Ci sono tante e tante storie, forse una della più emblematica è sicuramente quella del pescatore, del pescatore che andava dal dottore perché aveva un disturbo alla gola, questa è una delle più belle a mio parere. Il medico che curava il pescivendolo, naturalmente ben felice di accoglierlo, con le ceste di pesci che gli portava, aveva naturalmente particolare cura del povero pescatore che era afflitto da questo continuo e perpetuo disturbo. La storia racconta che un giorno il figlio del dottore, allora studente, laureando, accolto un giorno il pescatore che appunto ha appurato che il problema derivava semplicemente da una spina di pesce conficcata in gola. Naturalmente con un gesto semplice, con un gesto abbastanza accademico, ha tolto la spina di pesce dalla gola del pescatore, ha riferito al padre, il quale poi con una frase emblematica appunto gli rispose bravo figlio mio abbiamo finito di mangiare pesce.